ciao amici sapete che la pancia gonfia rende anche irritabili e nervosi a chi lo dici è una condizione molto fastidiosa in cui tutto dà fastidio se vogliamo mettere k o la pancia gonfia il gonfiore gli addominali possono essere un aiuto valido ma come dico sempre bisogna pensare prima di tutto al cibo ma cosa dobbiamo mangiare ecco i miei 5 alimenti utili selezionati per disintossicarci e ridurre del tutto il fastidiosissimo gonfiore alla pancia ma oggi non voglio dirvi solo quali alimenti mangiare ma anche i miei trucchi per farli funzionare al meglio se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 ananas diuretico e disintossicante contiene bromelina che migliora la digestione e l'eliminazione il mio trucco è mangiarlo prima dei pasti come antipasto con un po di peperoncino così attiva anche il metabolismo grazie all'effetto termogenico della capsicina piccante 2 banana contiene potassio che aiuta a contrastare l'eccesso di liquidi e ritenzione il trucco è mangiarla come spuntino dolce a metà pomeriggio così si evitano le schifezze e si arriva a cena con meno fame e tentazioni 3 curry è una miscela di spezie anti fermentativa quindi nemica del gonfiore ma io non conosco la cucina indiana ecco il mio segreto per usare il curry non serve essere chef internazionali basta aggiungerne un po in cottura a verdure carne pesce o al sugo della pasta 4 è di zenzero lo zenzero ha proprietà antiossidanti antibatteriche ed è un ottimo alleato contro il gonfiore della pancia soprattutto quando si dilata dopo aver mangiato il mio segreto è questo provate a bere la tisana di zenzero durante i pasti vuoi dire fredda no proprio calda così favorisce la digestione ed evita il gonfiore ho descritto numerose ricette di tè e infusi di zenzero in questi video e se volete conoscere le mie ricette trucchi e strategie per stare in forma è facile basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati e non perdere neanche uno dei miei consigli quinto alimento la cipolla contiene quercitina un principio attivo antiossidante che può aiutare il corpo a eliminare il gonfiore e la ritenzione il mio trucco usare la cipolla rossa che è più dolce e tritarla molto ma molto fine se mangi consapevole vivi meglio Grazie a tutti